Siamo con la capitana della scuola basket Lecce, Silvia Giancane. Silvia, sabato prima sconfitta della squadra dopo tre brillanti successi. Com'è adesso l'atmosfera degli sfogliatori? Sicuramente la sconfitta non è mai piacevole, soprattutto dopo l'inizio del campionato perfetto. Però comunque abbiamo giocato contro una squadra che è candidata alla promozione e l'abbiamo messa in difficoltà in diversi frangenti. Lo sfogliatoio è quello che sappiamo di poter dare di più, anche perché soprattutto verso la fine non siamo riusciti a concretizzare alcuni canestri. Penso che questo dimostri che siamo pronti ad affrontare anche squadre che puntano in alto. Sabato, anzi domenica mattina. Domenica mattina un altro impegno probante contro la Dinamo Taranto. Sì, anche la Dinamo è una squadra molto forte che punta sicuramente la testa del campionato e lo dimostra anche la classifica. Soprattutto ci sono delle individualità, delle ragazze molto esperte, ma penso che noi con il nostro atteggiamento potremmo riuscire a fare bene, anche perché siamo alla migliore difesa del campionato e dobbiamo mantenere questo record e siamo pronti a dimostrare a tutti quello che valiamo sicuramente. Bocca al lupo. Grazie.